Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nostro blog, io mi chiamo Birligi Concheri e sono uno studente di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino e sono qui per spiegarvi in poche parole che cosa tratteremo all'interno del nostro blog. Ciò che mi interessa andare ad analizzare all'interno di questo blog è la storia e l'evoluzione tecnologica dei videogiochi, quindi come si sono sviluppati i videogiochi, ma anche l'interazione che esiste fra il mondo dei videogiochi e il mondo dei videogiocatori. Le domande a questo punto sono due, come lo sviluppo tecnologico dei videogiochi ha cambiato il modo di giocare da parte dei videogiocatori, ma anche come le aspettative nuove dei videogiocatori abbiano cambiato il modo di creare nuovi videogiochi. Inoltre vorrei anche analizzare come lo sviluppo di internet e lo scambio di informazioni tra i videogiocatori abbia cambiato il modo di giocare e godersi un determinato titolo. E infine arriveremo anche a trattare polemiche tra i videogiocatori quali e sono meglio i videogiochi nuovi o i videogiochi vecchi, videogiochi che hanno fatto la storia o videogiochi caldo del momento, tutto questo e molto altro ancora sul nostro blog.